Niente è andato come doveva andare. Niente è andato come doveva andare. Partendo su tutte le frequenze in onde medie, se ci siete, se c'è qualcuno, mi prego. Partendo su tutte le frequenze in onde medie, se c'è qualcuno, mi prego. Partendo su tutte le frequenze in onde medie, se c'è qualcuno, mi prego.